dopo la notte dei lunghi coltelli e l'ufficializzazione di una crisi latente che accompagnava da tempo la maggioranza amministrativa le giornate appena trascorse sono quelle della quiete dopo la tempesta ma questa volta più che leopardi sarebbe il caso di rievocare i gattopardi quelli di tommasi di dampedusa e del cambiare tutto perché nulla cambi bocche cucitissime da parte di tutti i protagonisti nessuna dichiarazione del candidato impectore roberto mutali passi nessuna dichiarazione da palazzo di città dove non trapela neanche uno spiffero sulle prossime mosse del sindaco uscente adamo coppola nessuna dichiarazione dal primo artefice della crisi quel massimo la porta per quattro anni e mezzo presidente del consiglio comunale e da qualche settimana in campo con uno schieramento civico che ha fatto da trattore dei man di pancia della coalizione di governo tutto tace perché nessuno vuole sbagliare la propria mossa la porta aperto la crisi contro coppola cercando di proporre quale alternativa proprio mutali passi che però non ha seguito la scelta di rottura è rimasto in maggioranza e ora si trova ad essere il candidato sindaco dell'intera coalizione il centro sinistra è rimasto ma ad essersi fatti fuori dal centro sinistra sono stati entrambi i due originari rivali prima la porta e ora coppola chissà se le voci che li vorrebbero alleati civici hanno un qualche fondamento difficile crederlo sarebbe veramente fantapolitica grazie a tutti Grazie.